Torna a Foiano il Foiano Book Festival, è la sesta edizione e si svolgerà dal 7 novembre al 5 dicembre. Quali sono le aspettative, Sindaco? Speriamo anche quest'anno di aver fatto, e siamo abbastanza sicuri, un bel festival. Tanti autori, oltre 30 autori, che per un mese invaderanno le strade, le piazze e le belle sale di Foiano e quindi siamo entusiasti, siamo contenti, non vediamo l'ora che inizi. Assessore, di fatto è un connubio tra generi diversi, perché non c'è soltanto letteratura, ma anche la musica, per esempio. Esatto, questo festival è un'occasione per diffondere la cultura a 360 gradi. Oltre agli autori e alle autrici ci saranno Sergio Camariere, che si esibirà nel concerto di chiusura, ma vedremo anche la vicendarsi di attori, illustratori e altri personaggi di questo tipo. Sindaco, come si inserisce questa manifestazione nell'ambito delle politiche culturali del comune di Foiano? Sta diventando un progetto importante. Abbiamo sorvolato ormai i confini, sia comunali, sia provinciali, probabilmente anche regionali, quindi c'è molta aspettativa anche da tante persone che vengono da fuori e aspettano questo festival. Quindi sta diventando veramente un qualcosa di importante per Foiano, ma diciamo per tutta la provincia di Arezzo. Ecco, Assessore, si pensa anche al pubblico al quale un evento si rivolge. Foiano Book Festival è rivolto a tutti? Sì, noi cerchiamo nel fare il programma di individuare autori che possano poi raccogliere l'interesse di differenti fasce di età e quindi cercare di arrivare a più persone possibili. Ecco. Ecco.